Doc e Famila sono i miei supermercati di fiducia, perché qui sono certa di trovare prodotti d'eccellenza anche internazionale, come per esempio il mio formaggio francese preferito. Per non parlare della macelleria, dove svetta? Il Black Angus, una razza pregiata di bovini irlandesi. Nel banco frigo c'è un meraviglioso salmone coda nera, un filetto già pulito, di alta qualità, affumicato a legna, oppure un salmone rosso dell'oceano Pacino. Dal mondo alla Puglia, solo i prodotti migliori, scrupolosamente ispezionati dall'ufficio controllo qualità dei supermercati Doc e Famila. Doc e Famila, rendiamo accessibile la spesa di qualità.